numero 6 u green xlr è un prodotto che porta un'ottima qualità del suono ed una durata eccellente è un cavo di qualità da scegliere per un uso professionale è un prodotto di grande qualità e versatilità si tratta di un cavo bilanciato a 3 metri perfetto per una vasta gamma di applicazioni come l'home recording la pratica con lo strumento e la sala prove il cavo ha una guaina in pvc che aumenta la resistenza agli urti schiacciamenti e cadute la qualità del suono e la durata sono eccellenti rendendolo un prodotto ideale per un uso professionale se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 5 con nuosia xlr è possibile avere un prodotto di qualità a un prezzo vantaggioso disponibile in 10 metri di lunghezza offre la comodità di usarlo sia in teatri in studios di registrazione o durante le prove limitando i pericoli di inciampare e fornendo un'esperienza d'uso più comoda dotato di una buona schermatura e dei materiali giusti per connettori offre prestazioni semi professiona amatoriali di primo livello supporta inoltre anche il cosiddetto alimentazione phantom indispensabile per strumenti specifici come microfoni a condensatore un cavo decisamente consigliato acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 4 il new wear xlr è un set di cavi da sei pezzi progettato per le situazioni di home recording podcasting eccetera ogni cavo ha una lunghezza di un metro e presenta un design estetico accattivante caratterizzato da un colore univoco per ogni cavo per garantire un audio bilanciato e schermato da interferenze questi cavi sono realizzati con conduttori in rame di alta qualità offrendo un ottimo rapporto qualità prezzo il new wear xlr è l'ideale per coloro che vogliono impostare un punto di home recording e collegare tutti i dispositivi necessari in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 3 il pro el bulk è il pacchetto di 5 settembre di cavi maschio femmina xlr professionali più conveniente in circolazione i cavi tutti della lunghezza di 5 metri sono realizzati da pro el un marchio di punta nel settore audio questi prodotti sono progettati per resistere a urti cadute e schiacciamenti accidentali perdurando nel corso degli anni estremamente resistenti sono anche leggerissimi e facili da trasportare rendendoli ideali per quei musicisti che hanno bisogno di un set da muovere senza difficoltà se si desidera un prodotto di qualità ad un prezzo accessibile questo prodotto rappresenta una scelta eccellente il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 2 il neutric gold xlr è un cavo bilanciato di 10 metri progettato per offrire delle prestazioni eccezionali realizzato con materiali di altissima qualità come ofc e progettato per risultare particolarmente robusto è perfetto sia per situazioni live che per studio di registrazione grazie alla sua bassa capacità il cavo garantisce un segnale ricco di dettagli nitido e schermato da interferenze ambientali creato con connessioni canon è flessibile facile da installare e da arrotolare è la scelta ideale per chi vuole un cavo professionale audio da 10 metri se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 il mogami gold studio è un cavo xlr bilanciato di qualità eccellente progettato sia per l'utilizzo in studio che in situazioni live i materiali utilizzati sono di alto livello garantendo risultati audio di eccellente qualità e affidabilità la schermatura è di tipo avanzato eliminando in maniera efficace ronzii e rumori di fondo mentre i connettori xlr placati in oro garantiscono alta qualità la lunghezza del cavo è di 15 piedi rendendolo adatto ad entrambi gli ambienti se si cerca un cavo xlr bilanciato di alta qualità il mogami gold studio è il prodotto da scegliere se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione